Vogliono la didattica a distanza le mamme di Auletta. Dal 25 novembre, stando all'ordinanza regionale numero 92, i bambini dell'asilo e della prima elementare possono fare attività didattica in presenza, a meno che il sindaco non fosse intervenuto per tempo con misure più restrittive. In molti casi, infatti, i primi cittadini hanno optato per continuare con la cosiddetta DAD, mentre in altri hanno ritenuto opportuno consentire le attività didattiche in presenza. Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, non si è opposto alla riapertura delle scuole e ora si ritrova le mamme sul piede di guerra. Vorrebbero la sospensione come misura per salvaguardare i propri figli e intanto i bambini a scuola non ce li stanno portando. In questi primi giorni, in prima elementare, neanche un bimbo presente su 15 all'asilo meno del 10%, 8 su 50 stanno frequentando. Il braccio di ferro che si è innescato col sindaco dipende anche dal fatto che a Caggiano, l'istituto comprensivo è lo stesso, la DAD è stata prorogata. Le mamme in protesta hanno trovato in questa divergenza l'appoggio del gruppo Auletta Nova. Viviamo, dicono dall'opposizione, da giorni nella completa disinformazione da parte dell'amministrazione, che non informa la popolazione sulla situazione dei contagi. È normale che alla riapertura della scuola non si sia presentato nessun bimbo. Una sconfitta per tutti, ma soprattutto per il sindaco, che crea solo confusione e disorientamento. Come gruppo di opposizione stigmatizziamo questo incomprensibile comportamento e chiediamo al sindaco di tranquillizzare i genitori. E le rassicurazioni arrivano. Il sindaco Pietro Pessolano garantisce che sta gestendo personalmente la situazione, che se non comunica quotidianamente i dati è per non creare ansia e che non vi è al momento nessuna criticità tale da giustificare la chiusura delle scuole. Tutti gli screening fatti finora sono risultati negativi. L'ordinanza numero 92 è chiara, dice, i sindaci possono adottare misure restrittive solo nel caso riscontrino rischi e non nel caso di Auletta. È da apprezzare un sindaco che apre anziché chiudere. I bambini devono andare a scuola per apprendere e socializzare. Stanno perdendo mesi importanti, difficili da recuperare. Posto che non ci sono criticità in paese, dice di non vuole essere responsabile delle conseguenze negative sull'alfabetizzazione, lo sviluppo e sul benessere dei piccoli che la chiusura delle aule comporta. Le scuole dovrebbero essere le ultime istituzioni a essere chiuse. Prova ne è che dappertutto conclude si continua a fare attività didattica in presenza.